ciao amici cosa fate quando avete voglia di un tè verde da asporto ma non potete portare la teiera da casa vado da starbucks se hai un'ora per la fila possiamo farci una torta una torta al tè verde golosa da portare con noi anche in ufficio in palestra yoga sì così diventa una botte ma no la ricetta è light senza zucchero senza burro senza uova con ingredienti sani e un tocco brucia grassi dato dallo zenzero ed è anche facilissima se avete già l'acquolina in bocca mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco la mia ricetta di cheesecake vegana al tè verde e zenzero ingredienti per la base 150 grammi di biscotti secchi vegani 50 grammi di olio di cocco un quarto di cucchiaino di zenzero in polvere per la crema 200 grammi di formaggio spalmabile vegan 120 grammi di anacardi ammollati 120 millilitri di latte vegetale 80 millilitri di sciroppo d'agave o di acero 50 millilitri di olio di cocco liquefatto un cucchiaino di estratto di vaniglia un cucchiaio e mezzo di polvere di tè verde maccia preparazione la notte prima mettere gli anacardi in ammollo in acqua preparare la base frantumando i biscotti poi mescolarli con l'olio di cocco e lo zenzero disporre la base nella tortiera pressandola bene lasciare in frigo per almeno 30 minuti per la parte cremosa scolare gli anacardi e frullarli con tutti gli altri ingredienti con un frullatore potente finché diventa una crema soffice e liscia con una spatola coprire la base con la crema poi lasciare in frigo 8 ore per fare addensare il tutto e la torta è pronta ma perché light adesso ve lo spiego intanto iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro benefici degli ingredienti tè verde il tè maccia contiene 137 volte più antiossidanti degli altri tipi di tè verde numerose ricerche hanno dimostrato che sostiene il metabolismo e il potere brucia grassi del corpo nel maccia si trova la l teanina un aminoacido con proprietà rilassanti anti stress che migliorano la concentrazione secondo gli studi riduce gli zuccheri e il colesterolo nel sangue zenzero la radice di zenzero contiene zingiberene un potente antiossidante con proprietà anti gonfiore anti fermentazione abbassa il colesterolo stimola il metabolismo e la digestione trovate una playlist sullo zenzero in descrizione con i link ai miei libri e the book una torta così è un vero concentrato di gusto e salute ora condividete questo video e nei commenti scrivetemi com'è venuta la torta mangia sano e vivi meglio